Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e benvenuti nel nostro consueto appuntamento settimanale con il Robymel81 Mod News ragazzi. Allora andiamo un po' a vedere quello che è uscito questa settimana sul Modab ufficiale per quanto riguarda il modding di Farming Simulator 19, ve lo dico subito, un'altra settimana mosh, come le mosh, come le mosh, le mosh, però per fortuna come al solito il modding italiano e qualche trattorettino patatino, sempre brand italiano, ha tirato sulla situazione, happa happa happa, quindi insomma andiamo un po' a vedere le cosine ragazzi. Allora io direi di iniziare ovviamente come sempre per le console e di saltare tutti questi update, 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 update e iniziamo con la prima perla, la prima perla della settimana, ovvero il Dondi RT Series ragazzi del Red Stag Modding Team. Come vedete amici miei, un fantastico, ah ci ho fatto il test mod, cioè se volete vedere proprio un cenno di storia, tutte le specifiche tecniche di questo attrezzo, vi rimando al mio video, ve lo metto qui nella scheda informativa nella I e andate a vedere proprio con precisione il mio test mod che credo sia molto patatino, quindi andatelo a vedere. Queste ragazzi sono una serie di lulli della Dondi, RT300 e RT400, sono due modelli, come vedete uno che richiede 120 cavalli, uno che ne richiede 140. Questi ragazzi funzionano solo nel verso avanti, quindi servono nella realtà per questa doppia lavorazione, davanti tricciano, spiattellano un po' le cover crops, dietro arate, insomma vedetevi, però funzionano anche come coltivatori, se davanti ci attaccate questo in gioco e dietro ci attaccate una seminatrice, va benissimo insomma, però ecco guardatevi il test mod così capite meglio un po' tutto il funzionamento, quindi la moddina italiana Dondi RT series è la prima mod, diciamo, patatina che salva la settimana. Per i nostalgici di Farming 17 troviamo la Gold Crest Valley riportata al 19, questa era la mappa americana di Farming 17, chi non se la ricorda, ore e ore abbiamo passato su questa mappa e quindi adesso ve la ritrovate se vi piace su Farming 19, poi c'è un caricatore frontale della Fend, un aggiornamento, ecco un'altra moddina italiana, un aggiornamento del Fiat 80 serie, qui ragazzi è stato reso visibile il motore con le griglie trasparenti, vedete adesso si vede tutto dentro, ci sono tutte le griglie trasparenti, un bel update direi e poi ci sono state aggiunte nuove configurazioni alle ruote, quindi ragazzi scaricate questo aggiornamento perché questo Fiat è diventato ancor più patatino, ancor più patatino, poi c'è un update al Big Brute ragazzi, update, update, poi stalle, stallette, capanne, capannetti, capannozzi, capannini, poi amici miei il Fiat 1000 serie pack è finalmente uscito, io questo lo aspettavo e non ha deluso le mie aspettative ragazzi, ci sono due versioni della modd, una a 2VD l'altra a VD, quindi ragazzi come potete vedere due stili, due tipi di ruote diverse, poi abbiamo 5 tipi di ruote, di configurazione ruote, tra cui questi cingoli che secondo me sono orribili su questo trattore però, degustibus, poi abbiamo le 3 configurazioni motore, ovvero 1000DT, 1300DT e 1300DT toned, quindi ragazzi ce n'è per tutti i gusti, la possibilità di mettere il peso davanti, il caricatore frontale davanti, le porte animate, se potete aprire il vietro dietro e poi potete scegliere anche i colori delle cabine, insomma potete mettere anche questo verde qua, io mi chiedo perché il verde sul Fiat e perché, però vabbè, insomma ragazzi scaricatela perché è veramente una moddina molto patatina, io dovevo farlo questo test mod, ma poi non ho avuto più tempo, mi sono dedicato a altre cose, quindi speriamo che magari riesco a farlo nei prossimi giorni, vedremo un attimino, quindi ragazzi scaricate scaricate anche questo Fiat, vi ricordo sempre che, insomma, 5 stellette ragazzi, sempre 5 stellette alle moddine, poi ragazzi c'è stato un aggiornamento per chi lo ha comprato del DLC Platinum, mi raccomando ragazzi fate sia per PC sia per console ovviamente fate l'aggiornamento del DLC Platinum, perché per chi ce l'ha ovviamente, sono stati fatti un po' di fix, hanno aggiunto qualche luce, qualche deca, insomma un miglioramento, ovviamente non ci sono mezzi in più, è solo un miglioramento generale di quello che già è il DLC. Poi ragazzi c'è stato l'update della Sision, anche qui hanno corretto un po' di cose, un po' di vari fix, ma niente insomma di stravolgente, un aggiornamento anche del Dondi, a proposito di mod italiane, sempre di Red Stag Modding Team, poi sono usciti questi erpici Lemken Opal 110 che sono veramente patatini, lavorazioni piccole, però sono veramente patatini, sono fatti bene, io ve li consiglio, un aggiornamento per la New Woodshire e poi ragazzi io chiuderei la settimana delle console con la Class Corto 290FN che è una falcettina che si attacca, come potete vedere si attacca davanti ai vostri mezzetti e tagliate l'erbetta. Invece ragazzi che cosa hanno avuto in più gli amici di PC? Beh, diciamo la settimana è stata moschetta, è stata moschetta amici miei pure su PC, insomma, non è che hanno avuto molto di più, se non forse, ma mo' ci arrivamo, la mappa Colonia 1990 di cui ho fatto un test map che vedete qua ragazzi, qua ve lo metto qua nel box informativo, che è veramente una mappa molto carina, patatina, ambientata appunto, diciamo teoricamente nel 1990, una mappa per campi piccoli, una mappa ragazzi che non è potuta andare su console per adesso perché diciamo c'ha una specie di terreno dinamico, ma delle texture, vedete, il dynamic ground texture, cioè praticamente in questo terreno voi simula un po' che sprofondate, simula un po' di fango, slittate un pochetto, insomma è stato messo uno script particolare che fa sì che questa mappa non possa andare su console, perché ormai lo sapete, ve l'ho detto sempre, le mappe, le mod con gli script aggiuntivi rispetto a quelli del gioco di default non possono andare su console, ma attenzione, gli autori della mappa nella loro pagina facebook hanno detto che questa mappa uscirà anche per console ad aprile, quindi il prossimo mese avrete anche la versione console della colonia 1990, poi un'altra moddina interessante che è uscita diciamo per pc, oltre all'update del ccm1000 va bene, è questo milking time che funziona ovviamente con la global company, una donna della global company, una volta che voi avete installato questo cosino, le vacche vi producono latte come nella realtà, cioè il latte viene munto, virtualmente munto e messo nella cisterna per essere venduto solo alle 6 di mattina e alle 6 di sera, questo significa che prima delle 6 di mattina, se voi alle 6 di mattina prendete il latte, lo vendete, fino alle 6 di sera non avete più il latte nella cisterna, alle 6 di sera vi rimette il latte nella cisterna e fino alle 6 di mattina non avete più il latte nella cisterna, insomma, ed è molto carina perché aumenta di non poco diciamo il realismo, ok ragazzi? E poi vi volevo, vi volevo far vedere anche il collect stroke admission, praticamente una volta che voi avete installato questa mod qua, quando fate le missioni, i contratti, vi potete prendere la paglia e ve la potete vendere, quindi insomma un piccolo guadagno in più diciamo nel vostro lavoro da terzisti durante le missioni, questo è quanto ragazzi, purtroppo per quanto riguarda le mod in uscita abbiamo poco e niente, perché ragazzi la lista non è stata assolutamente aggiornata dalla scorsa settimana, quindi non sappiamo, la maggior parte sono già uscite, molte non sappiamo se hanno passato i test o meno, come questa della John Deere oppure se sono ancora in testiche come la Cornella, insomma ragazzi non le sappiamo ancora queste cose, quindi non ho molto da dire sulle mod in uscita, se non una piccola una piccola spunta, una piccola cosa sulle mod italiane, sul modding italiano, ovvero il bellissimo Sametto Fortis che stanno facendo l'Elex 89 e RB Modding è quasi pronto per PC e console ragazzi, quindi eccolo qua, guardate in tutta la sua magnificenza questo fantastico Sametto, ovviamente per ogni informazione vi rimanda la pagina di Lele e RB che vi metto in descrizione, pagina Facebook, chiedete a loro, ovviamente non sappiamo né data di uscita né tempisti che le sanno solo loro, quindi ragazzi rimando a loro tutte le domande che avete nella loro pagina, quindi bravi bravi Lele e RB tra i migliori modding italiani senza dubbio, quindi aspettiamo un po' questo Sametto, io su questa splendida immagine di questo fantastico Sametto vi saluto, vi ringrazio di aver seguito anche questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per sostenere il canale in tanti modi, mentre che ringrazio i miei amici abbonati, appunto abbonandovi, ci sono tre tipi di abbonamento o acquistando qualche cosa dal mio shop, come vedete qua giù, magliette e magliettine o comprando qualche giochino a prezzo scontato dal link Instant Gaming qua sotto, quindi ragazzi se volete aiutarmi di modi ce ne sono veramente tanti, poi ragazzi vi ricordo che come tutte le sere io sono in live su Twitch alle 20.30 più o meno, insomma, l'ora lì, questa sera faccio l'Italian Rice, quindi se volete passare a salutarmi sono lì e niente ragazzi, buona domenica, magnate e riposatevi, un baciotto, buon pranzo a tutti, ciao!